Ciao a tutti, da oggi inizio a condividere la lettura di un libro che in questo periodo mi ha accompagnato davvero piacevolmente e leggerò solo alcuni capitoli che ho selezionato e spero che sia utile anche per voi, è un motivo di ispirazione e riflessione. Il libro si intitola Libere donne di Dio, scritto da Mariella Carpinello, figure femminili nei primi secoli cristiani. Premessa, le prime donne cristiane votate alla castità vivono nella chiesa antica, dopo aver rinunciato alle nozze, alla famiglia, alle tappe consuete di un percorso tradizionalmente prestabilito, queste vergini dei primordi si dedicano alla meditazione e alla carità, osservano la più stretta sobrietà dei costumi, si attengono ad ogni passo dei quattro Vangeli e vivono in Cristo e soltanto per Cristo. Sono le eredi di sua madre Maria, di Maddalena, di Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, delle figure femminili spesso anonime che lo seguirono durante la predicazione e condivisero poi le loro ore della passione ai piedi della croce, nonché l'evento della risurrezione. Folgorante prototipo di donna che vive per Dio e quello che ci presenta Ambrogio, vescovo di Milano, quando racconta l'annunciazione. Gabriele la trovò là dove aveva l'abitudine di visitarla e Maria ebbe paura dell'angelo, turbata dal suo aspetto di uomo, ma poi lo riconobbe intendendo il suo nome. Sconcertata da un uomo, non fu affatto sconcertata da un angelo. Guardate come il suo orecchio è attento e il suo sguardo riservato. Salutata si allarma, interpellata risponde. Inquietata dal primo approccio, in seguito promette disponibilità. Nell'attimo che riassume tutta la sua avventura personale, Maria incarna una certa inclinazione che è di ogni animo femminile a vivere per lo spirito. Teme l'uomo e le sue esigenze troppo umane, però non ha paura di ciò che gli è superiore. Nell'intimità della sua stanza sarebbe turbata da una presenza maschile, ma risponde con fiducia spontanea ad una presenza più elevata, una presenza soltanto spirituale. Traducendo in regime di castità quotidiana i sentimenti di Maria al cospetto dell'angelo, le prime vergini cristiane imparano a sciogliersi dai lacci della materialità. Si applicano lo studio delle scritture e operano uno strapponetto con le competenze che erano proprie della donna del mondo antico. L'eroina del Vecchio Testamento, la sposa greca e la matrona romana erano votate alla riproduzione della specie. All'interno di un universo etico che, seppure prevedeva diverse illustre eccezioni, assegnava alla virtù un connotato prettamente maschile. Di contro, quando si afferma l'ideale paleocristiano della verginità consacrata, la donna viene all'improvviso sollevata ad una posizione vertiginosa e dapprima impensabile, quella di simbolo della relazione privilegiata con Dio. La vita verginale, così come il cristianesimo dei primordi, la intende, non ha precedenti. Certo, le vestali romane e le adepte di comunità religiose e indiane si astenevano dai rapporti coniugali. Più in generale, pare che presso diverse culture primitive fosse presente l'esigenza di privare delle nozze alcune fanciulle, isolandole con funzioni di culto particolari. Si tratta però di casi circoscritti, di esperienze periodiche o marginali rispetto all'ordinario tenore religioso della maggioranza dei fedeli. Condotta la sua gente alle fade del monte Sinai, anche Mosè proibisce agli uomini di accostarsi alle donne perché Dio possa manifestarsi, ma dopo qualche giorno tutti torneranno le loro abitudini, benché il rito dell'astinenza renda esplicito che il divino non può entrare nella sfera umana quando essa è traversata dalle passioni carnali. La Vergine consacrata cristiana impersona una novità storica autentica, sia perché la sua scelta è assoluta e definitiva, sia perché la sua figura è collocata al primo posto in mezzo al popolo cui appartiene, come esempio che tutti devono sempre tenere presente se non da imitare. Non è solo una creatura che vive appartata, ma un soggetto protagonista di esperienze mistiche senza precedenti, dal quale si irradia la luce propria degli archetipi. La sua anima resta perennemente disponibile nei confronti di Dio, quindi prolunga all'intero corso dell'esistenza, quelle ore di attesa che Israele osserva ai piedi del Senai prima che Javè si riveli. Divenuta dimora sempre aperta alla vista del Signore, la Vergine è stimata superiore ai credenti di fede ordinaria, sia le donne che gli uomini possono compiere la scelta della castità e nonostante questo gli scrittori cristiani per lo più tendono a riferire a lei gli ideali verginali. E con il cristianesimo in effetti che nelle regioni dell'antico impero romano sembra affermarsi con molta evidenza l'idea che la donna eccella in potenzialità religiose, vale a dire nelle pregiate risorse necessarie a raggiungere la vetta della saggezza e il premio dello spirito. La spiritualità della Vergine ispira un importante filone di pensiero e non sono pochi gli autori patristici che se ne lasciano affascinare, ma è soprattutto la nascita del movimento monastico a riproporla con forza nel corso del IV secolo. Se i deserti orientali dei primi monaci sono stati a lungo considerati luoghi poco adatti alle donne, vagliando le fonti scopriamo che la realtà storica è ben diversa. La partecipazione femminile al monachesimo cristiano è netta e rilevante fin dagli albori. Nel 376 Ambrogio di Milano segnala una comunità religiosa che vive presso Bologna e qualche anno dopo, nel 384, la lettera di due preti cita un monastero situato ad Ossirinco, nell'atebaide egiziano. Sono queste le primissime tracce lasciate sulle fonti dal movimento nascente e si riferiscono entrambe a donne. Al di là del dato di fatto, la femminilità è elemento dinamico e irrinunciabile nel patrimonio ideale del monachesimo e anzi, e lo potremo constatare a più riprese esaminando biografie di ascete e di asceti, un vero e proprio valore religioso. Si apre così una stagione ardente, cotrassegnata da personaggi femminili d'eccezione, che affrontano il neafragio del mondo antico con spirito positivo, impegnandosi nel rinnovamento della vita interiore. Per dedicarsi alla conoscenza di Dio, esse prendono le distanze da consuetudini secolari, combattono l'opposizione dei parenti, affrontano lo scandalo e la condanna sociale, sfidano le leggi imperiali, rennegano le comodità domestiche, abbandonano la patria, percorrono migliaia di chilometri la scoperta del divino. Alcune di queste figure appartengono alla cronaca storica, altre alla leggenda ageografica. Abbiamo raccolto insieme le loro vite perché testimoniano con uguale vigore la nascita di una nuova coscienza e perché le loro gesta si richiamano reciprocamente, rendendosi complementari. In questo ambito non troveremo forme esteriori di potere femminile. Il contributo della donna alla spiritualità monastica è interiore e sostanziale, è un contributo di idee e di sentimenti, di esperienza mistica e di dialogo, di impegno intellettuale e letterario. Uscendo dai ranghi sociali che hanno a lungo impregionato la sua vitalità interiore, la donna riprende voce nelle circostanze particolari dell'isolamento religioso. Aspirazioni che sono sue da sempre ma non hanno mai trovato modo di esternarsi, né lo troveranno facilmente nei secoli a venire, dedicarsi alla propria anima, per citarne una che le repiloga tutte, incontrano nel monachesimo un terreno fertile nel quale fruttificare. Una pregevole letteratura nasce da questa eruzione di energie e rileva quasi attraverso una lente di ingrandimento le eterne costanti che dominano oggi come allora l'universo della femminilità. Ringrazio Marcellina Bozzi, Anna Maria Canopi, Alfredo Cattabiani, Albert De Vogue. Dal capitolo 1, Donne dei primordi orientali, Tecla e la sua emula Macrina. La geografia cristiana dei primi secoli, ancora prossima alle sorgenti sapienziali e all'esempio diretto di Cristo, mette in campo una folla di eroine forti della loro castità, che affrontano senza cedimenti la furia dei persecutori, i processi, le torture e il martirio. Se cerchiamo in quel ricco complesso di storie, una figura ancora oggi viva e parlante, ci imbattiamo in Tecla, la bella e nobile fanciulla di Iconio. Nel secondo secolo dopo Cristo, mentre sono in pieno corso le persecuzioni imperiali contro i cristiani, la sua leggenda riflette il vigore ideale delle novità cristiane e prefigura la donna dei tempi a venire. La vicenda è narrata negli atti di Paolo e Tecla, un testo apocrifo che prende spunto dai viaggi di Paolo in Asia minore, così come sono riferiti dal Nuovo Testamento, per tracciare poi un racconto del tutto originale. Siamo sulla strada che conduce a Iconio, importante centro urbano della penisola anatolica. In fuga ad Antiochia, Paolo cammina in compagnia di due cattivi discepoli, quando gli si fanno incontro alcuni cristiani che gli offrono la loro casa. In effetti è la mano di Dio condurre Paolo in quella casa, perché proprio di là le sue parole raggiungeranno la bella tecla, per conquistarla ad una nuova verità. Beati coloro che custodiscono incontaminata la loro carne, poiché diverranno il Tempio di Dio. Beati i continenti, perché parlerà loro il Dio. Beati coloro che hanno rinunziato a questo mondo, perché saranno graditi a Dio. Beati i corpi dei vergini, perché a Dio saranno graditi e non perderanno la ricompensa della loro purezza. Mentre l'Apostolo pronuncia questo discorso agli ospiti riuniti, Tecla è poco lontano nel palazzo paterno, accanto alla finestra della sua camera da letto. Dal punto in cui si trova non può vedere lo sconosciuto oratore, quindi non sa che aspetto egli abbia. Sente soltanto la sua voce, un puro richiamo senza volto né corpo che cancella ogni pensiero e la solleva la beatitudine dell'estasi. Per tre notti e tre giorni la fanciulla rimane prigioniera di quel rapimento. Nonostante la madre ed il fidanzato tentino in ogni modo di farla rientrare in sé. Quando finalmente torna la sua condizione di ragazza terrena, Tecla, ormai trasformata, comunica al promesso sposo che non lo vuole più e che la sua scelta è irreversibile. A questa sbalorditiva notizia seguono allarme e confusione. La madre, credendo che la figlia sia stata colpita da una forma improvvisa di pazzia, si adopera affinché rinuncia il proposito, mentre il giovanotto, respinto, inizia ad aggirarsi intorno a Paolo, per tentare di capirne il potere carismatico. Come in un'antica commedia, eccolo incappare fatalmente nei due cattivi discepoli, e tra vino e chiacchiere d'austeria accordarsi per denunciarlo alle autorità, quale sovvertitore di folle. Prelevato dalla casa che lo accoglie, l'apostolo viene arrestato e era inchiuso in sera con l'accusa di praticare la magia. La notte stessa tecla, corrompe i guardiani della prigione con oro e argento, insieme ai gioielli e offre uno specchio, la vecchia immagine di sé di cui disfarsi in cambio di una rinnovata identità. Entra nella cella di Paolo e lo vede per quello che fisicamente è. Piccolo dissatura, calvo il capo, arcuate le gambe, tarchiato, congiunte le sopracciglia, con il naso leggermente camuso, quasi brutale e animalesco d'aspetto, e tuttavia di grazia ripieno, poiché a volte appare qual'uomo, a volte di angelo ha il volto. Del resto per tecla la questione è rilevante, ciò che vuole diventare sua discepola e venerarlo come maestro, quindi si getta ai suoi piedi e abbraccia le sue catene, dalle quali emana una grande forza. Ben presto però i parenti inviperiti il rompono nella prigione, lo strappano a lei e lo trascinano in tribunale perché venga condannato e poi giustiziato. Il governatore lo convoca per interrogarlo, ma rimane affascinato dal racconto delle sue imprese di evangelizzatore. Cerca di prendere tempo e fa condurre anche tecla, che venga a spiegare perché mai non intende più sposarsi come prevedono le leggi della città. Sollecitata a difendersi, l'accusata non apre bocca, limitandosi a fissare lo sguardo estatico sul volto di Paolo, e allora la sua stessa madre è decisa ad annullare nella figlia l'improvvisa indipendenza di opinioni a invocare su di lei la morte. La cittadinanza vuole ordine e rispetto delle norme tradizionali. Le autorità non ammettono eccezioni, la famiglia è ferma nell'accusa. A malincuore il governatore, in ogni regione dell'impero e in ogni sua epoca ci si imbatte in un pozzo pilato, ordina che Paolo sia flagellato e buttato fuori dalle mura urbane, e che la fanciulla paghi con il patibolo la sua ostinazione. Neppure a questo punto della sua avventura mistica tecla vacilla, ma come l'agnello nella solitudine gira intorno lo sguardo, se mai vede al pastore, così ricerca Paolo. Lo vede in mezzo alla calca, vede il signore che ha assunto la sua forma fisica, e pensa sia arrivato per controllare se mai la sua decisione di mantenersi casta si è venuta meno. Confortata da quella presenza spirituale che lievita verso il cielo, affronterà la prova senza incertezze. Completamente denudata nel candore della sua giovanile bellezza, sale sulla catasta di legno sfidando l'incendio che divampa senza sfiorarla, finché un boato sotterraneo e una tempesta di grandine non intervengono a spegnere le fiamme e disperdere la folla avida di emozioni. Paolo intanto, pesto e malconcio, si è chiuso in un sepolcro a pregare Dio che salvi la sua amica. Il ricongiungimento con tecla è gioioso e tuttavia il fatto che lei abbia sfidato e vinto da sola il popolo eccitato e il fuoco non gli pare un indizio sufficiente della sua conversione. I tempi sono tristi e tu sei bella, la mette in guardia malinconico. Voglia il cielo che non ti colga un'altra prova peggiore della prima, che tu non possa sopportare, ma finisca col cedere. Per adesso le nega il battesimo annunciando che l'acqua della salvezza avverrà per lei il momento opportuno. Insieme si rifugiano ad Antiochia, dove un amministratore statale ricco e potente si innamora di tecla e tenta di conquistarla a peso d'oro dal suo compagno di viaggio. Paolo chiarisce che la fanciulla non gli appartiene in alcun modo e che è libera di decidere da sola cosa voglia per sé. Ne interviene in sua difesa quando il funzionario la sale per rapirla, ma tende che sia lei stessa a strappargli la spada e schiaffeggiarlo. Seguono inevitabilmente nuove denunce al governo cittadino contro tecla da parte dello spasimante offeso. La regina trifena, commossa dalle gesta di quella giovinetta coraggiosa, la prende sotto la sua protezione per scongiurare ulteriori violenze, ma non può evitare che venga processata. Condannata alle belve la ragazza entra nell'arena senza alcun timore e ammansisce una feroce leonessa che fra la meraviglia generale si pone al suo servizio e la difende dagli assalti degli altri animali. Poco lontano una fossa piena di acqua e di mostri marini è stata predisposta per accogliere la sventurata nel caso sopravviva le fiere terrestri. Tecla si getta di sua volontà pronunciando queste parole. Ora è il momento di immergermi. Nel nome di Gesù Cristo io mi battezzo nel mio ultimo giorno. Privata del battesimo da un Paolo ancora cauto, la giovane donna sceglie a suo criterio il giorno e l'ora della rinascita spirituale e se lo impartisce da sola. Adesso i mostri galleggiano fulminati sulla superficie dell'acqua. Una massa di fuoco si accende e dilaga tutto intorno. Gli spettatori si agitano nelle tribune. La regina trifena sviene. Il proconsole, temendo che i fenomeni soprannaturali si ritorcano contro la città, ordina che l'esecuzione sia subito sospesa. Fa condurre a sé la portentosa fanciulla e le domanda chi sei tu? Il suo meravigliato interrogativo risuona come un riconoscimento di impotenza. Ciò che io rappresento è vecchio ed è caduto, mentre in te, creatura che non conosco, si rivela la novità che mi chiama al futuro. Lei risponde, sono la serva del Dio vivente. Ormai restituita la sua dignità di libera cittadina, tecla, mentre tutta la popolazione femminile che ha intravisto in lei una forza alla quale partecipare, le fa eco in coro. Non vi è che un Dio, quello che ha salvato tecla. Dopo il trionfo, la giovane pensa a Paolo, che nel frattempo ha proseguito il suo viaggio apostolico da solo e lo fa cercare, inviando messi ovunque. Ha avuto notizia che si trova a Mira per evitare di imbattersi in nuovi pretendenti si travesse da uomo, lo raggiunge e gli annuncia. Ho ricevuto il battesimo, Paolo, poiché è quegli che ha dato a te il potere per diffondere l'Evangelo, ha dato anche a me il potere per il battesimo. Parole che risuonano sbrigative ed audaci ai nostri giorni, in pieno dibattito sul sacerdozio femminile, ma che nel racconto vengono approvate senza riserve dall'Apostolo. A questo punto tecla torna ad Iconio, sua città natale. Si reca dalla madre che l'avrebbe uccisa pur di non vederla decidere del proprio destino e la interpella senza il minimo rancore. Puoi credere che il Signore vive nei cieli? Se desideri tua figlia, eccomi, ti sono vicina. Non ci viene indicato quale sia stata la risposta della Signora. Certo è che i passi della giovane non si fermano qui. Da Iconio tecla si sposta ancora in un'altra città anatolica, Seleucia di Pisidia, dove illumina molti con la parola di Dio. Predica, converte, svolge apostolato fino al suo ultimo giorno, quando si addormenta in un dolce sonno. La sua tomba sarà oggetto di un culto speciale da parte di moltitudini di pellegrini e la sua leggenda conoscerà vari sviluppi. Alcune versioni immaginano un viaggio sotterraneo di tecla fino a Roma, tracciando un ideale congiungimento tra orienti cristiano e occidente. Altre raccontano un soggiorno solitario di 62 anni sulla montagna di Calamone. Al di là delle aggiunte, che pure sono molto significative, quel che attrae il nostro interesse è il percorso psicologico che la vita di tecla descrive. La dura relazione con una madre ostile alla sua crescita spirituale, il necessario distacco da lei, il rifiuto di lasciarsi comprare da uomini, gli ostacoli e i pericoli che ne derivano, l'amore spirituale per un uomo che non è un dominatore ma un interlocutore, la rottura dei tradizionali rapporti di forza tra due sessi, l'incontro con una benevola madre adottiva, la scoperta della forza spirituale, il perdono della madre naturale severa e prepotente e finalmente l'affermarsi di una personalità rinnovata. Molte donne potrebbero anche oggi riconoscersi in un simile itinerario. Prima di tecla, modello di fanciulla cristiana per antonomasia, nel mondo antico l'eroismo femminile mostrava connotati meno interiori e soprattutto si indirizzava verso scopi completamente differenti. Avventura simile e speculare potrebbe essere quella di Antigone, giovane donne, donna in rivolta contro le leggi cittadine, per devozione a ciò che ama, che nel suo caso è il vincolo del sangue. Quando affronta l'esecuzione Antigone lo fa per religiosa devozione alla propria famiglia, dichiarandosi l'ultima figlia di un'epoca primigenia, ormai finita, dove la parentela era tutto, ed è proprio dall'amore per il fratello che trae l'energia per sfidare una legalità priva di sentimento. Ora, all'interno di una trama che presenta qualche affinità, tecla è protagonista di un radicale ribaltamento. La verità per la quale rischia la vita è esattamente contraria al primato del sangue, al mondo chiuso della stirpe e alla sua etica arcaica. Risiede invece nella regione, addirittura sconfinata dell'anima, con le sue possibilità inesplorate. Un universo si spalanca, Antigone morì per essersi ribellata, tecla si ribella ma sopravvive grazie alla sua fede, che compie l'impossibile e fronteggia in modo vittorioso uomini, leggi, tribunali, patiboli e belve. L'ideale verginale cristiano, personificato da tecla, trova il suo principale punto di riferimento nel Vangelo di Matteo. Vi sono eunuchi che sono nati tali dal seno della madre, vi sono eunuchi che sono stati fatti tali dagli uomini e vi sono eunuchi che si sono fatti tali da se stessi per il regno dei cieli. Ed è a questo brano che si rifanno tutti quei cristiani, uomini o donne, che abbiurano la propria sessualità quale principale impedimento alla conquista di una più alta vita spirituale. Uno dei maggiori scrittori patristici, origene, interpretando la lettera alle parole di Cristo, decide addirittura di evirarsi. Siamo nel terzo secolo dell'era cristiana, il potere politico è ancora fieramente ostile alle istanze evangeliche. Nei credenti la tensione ideale è alle stelle e le contraddizioni che ne derivano sull'ordine dell'esistenza sono laceranti. Tutto ciò spiega certe soluzioni croente ed estreme, ma con il IV secolo una profonda metamorfosi attraversa il mondo dei cristiani. Costantino infatti decreta la libertà di culto. La Chiesa si consolida in istituti legati al potere politico e finisce l'era dei martiri. Per mantenere il fervore della fede, per non dimenticare il sacrificio dei suoi testimoni, nasce il movimento monastico. Uomini decisi a non adagiarsi nella nuova pace sociale, abbandonando le città dell'Egitto, della Cappadocia, della Siria e della Palestina. Si ritirano a vivere soli o in gruppi. Sviluppano una vera e propria cultura della separazione dal mondo, con i suoi modelli, il suo programma di vita quotidiana, la sua letteratura, la sua fine conoscenza della psiche. In fatto di castità si afferma una precisa scala di valori. La Vergine si trova sul gradino altissimo, nella perfetta intimità con Dio. Al di sotto di lei è la vedova, che rifiuta le seconde nozze, e nel punto più basso la moglie che si prodica per il marito e per i figli. Quest'ultima, dopo la morte, avrà in premio un terzo della beatitudine celeste, mentre la vedova casta ne godrà due terzi, e solo la Vergine, che non ha mai conosciuto uomo, potrà gioire nella pienezza completa. Le formule della verginità consacrata, rinuncia alle nozze, parco, regime alimentare, preghiera e servizio alla chiesa, si completano nelle norme del monachesimo. Le vergini consacrate diventano monache, ed iniziano ad osservare un regime religioso meglio definito. A loro volta apportano al movimento un contributo d'esperienza già secolare, e la novità dirompente di risorse femminili fiorite nella libertà dal gioco coniugale, così come restrittivamente lo intendeva la legge antica. Tra i due sessi si apre un dialogo instancabile sui modi del vivere cristiano, il cui parametro è la simbiosi di anime, fra Paolo e Tecla. Non pochi scrittori cristiani si avventurano in elogi entusiasti delle qualità spirituali di lei, nonostante sia personaggio apocrifo, proponendola come modello intramontato a Canto Maria, Madre di Cristo. Da Tecla, in effetti, parte il filo di continuità, che unisce il fresco impeto delle prime vergine all'impegno militante delle prime monache. Una sopra tutte è la sua erede, Macrina. Siamo a Cesarea, capoluogo della Cappadocia, o forse più a nord, a Neo Cesarea, nel punto, comunque in un importante centro della regione orientale, della penisola anatolica, nella prima metà del IV secolo. In una grande casa patrizia, una giovane donna, Emelia, si contorce nelle doglie del suo primo parto, fino a che si abbandona, sfinita, all'incoscienza ed inizia a sognare. Le sembra di tenere già fra le braccia la creatura che sta per nascere, mentre un essere che non è di questa terra, alto di una bellezza lucente, l'è accanto. Guarda benevolmente l'anno nata e per tre volte la chiama Tecla. Non appena Emelia, il cui nome significa armonia, torna in sé, si accorge di aver dato alla luce una bambina e si assente di aver ricevuto in lei il dono divino. La risposta alle sue più intime aspettative. Quando era ancora ragazza, avrebbe voluto consacrarsi a Dio, ma non poté mettere in atto il suo proposito perché le circostanze glielo impedirono. Era infatti orfana di entrambi i genitori, bellissima e priva di qualsiasi protezione, scrive uno dei suoi figli, Gregorio di Nissa. Nel pieno fulgore della sua bellezza fisica, la fama della sua avvenenza spingeva molti a chiederla in moglie e, d'altra parte, c'era il pericolo che, se non si fosse unita in matrimonio a qualcuno spontaneamente, di subire qualche violenza a causa dell'offesa dei pretendenti respinti, dato che stavano preparandosi a rapirla, giovani pazzamente invaghiti della sua bellezza. Il ratto di fanciulle in età da marito e di giovani vedove era reato diffuso nella Cappadocia di quegli anni, tanto che talvolta qualcuno di loro era costretta a mettersi sotto la protezione della chiesa per difendersi dalle minacciose pressioni dei corteggiatori. Emelia preferì accasarsi piuttosto che rischiare un suppruso e scelse un uomo di ottima fama, cultura e moralità, il retore Basilio. Tuttavia il rimpianto per una vita votata a Dio permane tra le soddisfazioni di un matrimonio felice e si rafforza adesso con la nascita di una figlia. La piccola è chiamata Macrina, in omaggio alla nonna paterna che fu donna di spicco negli ambienti cristiani del suo tempo. Discepola dell'evangelizzatore Gregorio, il tamo aturgo. Quando sull'Asia minore si abbatte la persecuzione di Massimino, Daya, contro i cristiani, Macrina, senior, si era rifugiata con pochi congiunti in una regione desolata del ponto ed era sopravvissuta di stenti per qualche anno come una fuorilegge. L'era dei martiri si è conclusa da pochi decenni quando Emelia partorisce la sua prima figlia e vivide tra i credenti sono le loro memorie. La nonna dell'anno nata appartiene quindi ancora in vita alla schiera leggendaria dei testimoni della fede. Dunque è dalla propria madre e dalla madre del padre che la piccola riceve l'impulso a diventare ciò che sarà una donna di Dio, la prima donna alla cui letteratura cristiana dedichi una biografia. Per rinnovare l'emozione del sogno profetico che l'ha sollevata dalle sofferenze del parto, Emelia assegna segretamente la bimba un secondo nome, Tekla, che ricordi in lei la propria aspirazione religiosa incompiuta. Avrà sempre nella sua primogenita la prediletta fra i molti figli bellissimi, intelligenti e di buon carattere che le nasceranno. La alleva con amore, le prepara il cibo e la imbocca con le sue mani, sebbene abbia una nutrice a disposizione. Non vuole essere per lei madre solo secondo la carne, ma mettendola al mondo anche nello spirito, favorendo con la necessaria delicatezza la crescita della sua anima. Nel suo sentire di donna cristiana si fa strada l'idea, che si rivelerà tanto fertile di conseguenze nella storia della cultura occidentale, di gravidanza spirituale. Così, una volta svezzata la piccola, Emelia le parla di amore per Cristo e più tardi si serve della Bibbia per insegnarle a leggere e scrivere. La letteratura pagana, Omero e gli altri usuali testi di apprendimento della gioventù patrizia non devono influenzarla. Che le sue prime parole lette siano quelle rivelate da Dio, che sia preservata dalle suggestioni di quel complesso di immagini poetiche e concezioni morali che ai tempi di Tecla costituivano il patrimonio dell'etica. Scrive in proposito suo figlio Gregorio di Nissa. Emelia riteneva vergognoso e del tutto sconveniente che le passioni della tragedia, quelle che tramite i personaggi femminili dettero ai poeti spunti argomenti, o che le indecenze della commedia, oppure che le turpitudini dei disgraziati avvenimenti accaduti presso Troia venissero insegnati a una natura tenera e per età influenzabile, che poteva venire contaminata in qualche modo da queste storie di donne alquanto sconvenienti. L'ostilità nei confronti di Omero e della letteratura profana è un atteggiamento comune ai cristiani di questa età ed Emelia non fa eccezione. Il problema di come proteggersi dalle seduzioni della cultura antica è molto sentito dai padri della chiesa. È vero d'altra parte che Basilio, padre di Macrina, è un brillante retore e insegna ai propri figli il rispetto per la scienza profana, inviandoli a studiare nei migliori atenei. La bambina cresce quindi in un ambiente familiare molto colto. Lo stesso Gregorio Nisseno, nonostante la dica estranea agli argomenti ricorrenti nelle scuole ufficiali, ogni volta che le cede la parola in qualche suo scritto, le attribuisce un linguaggio che presuppone tutta quanta la storia del pensiero antico. A 12 anni, l'età in cui di solito le fanciulle vengono promesse spose, Macrina è bellissima come lo era sua madre. Gregorio conserva un ricordo incancellabile di quel fiore sbocciato. A questo proposito è giusto meravigliarsi del fatto che non rimaneva ignorata l'avvenenza della ragazza, pur se tenuta nascosta. In tutta la regione niente sembrava una meraviglia tale da poter essere paragonata alla bellezza e la grazia di Macrina, tanto che neppure le mani dei pittori furono in grado di esprimere la sua leggiadria. Perfino quell'arte, capace di riprodurre tutto e che osa misurarsi con i più grandi soggetti, in modo da rappresentare attraverso l'imitazione le immagini stesse dei pianeti, non riuscì a rendere con esattezza l'armonia di quella bellezza fisica. Di questa fanciulla, la cui bellezza è intraducibile perfino nelle parole di uno scrittore come il Nisseno, si invaliscono in molti, magari senza averla mai vista, solo per sentito dire. Numerose richieste di matrimonio vengono avanzate finché il padre non accorda la sua preferenza al rampollo di una famiglia distinta, che ha appena attumato gli studi e iniziato la professione oratoria. Le condizioni della giustizia nella Cappadocia di questi anni sono pessime e nei tribunali, come nelle cariche pubbliche, dilagano corruzione e malcostume, ma il giovane prescelto dal retore Basilio è un energico idealista che mette la sua abile parlantina al servizio dei perseguitati. La promessa di matrimonio sembra avviata alla sua felice soluzione, quando il fidanzato improvvisamente muore, nel compianto di quanti lo hanno conosciuto e stimato. La fidanzata, che fino ad allora non aveva voluto contraddire il padre, ritiene di avere ormai compiuto il suo dovere di figlia, quasi le nozze fossero state celebrate e annuncia di volersi consacrare a Dio. Se i parenti insistono che si prendano in considerazione le molte richieste da parte di altri giovani, obietta che uno è il matrimonio, uno la nascita, uno la morte, e per chi crede davvero nel Dio vivente, il promesso sposo non è affatto morto, ma solo momentaneamente assente, per cui sarebbe imperdonabile non mantenergli fede. La devozione alla memoria del fidanzato diventa il pretesto per rimanere quella che è una fanciulla schiva e religiosa, che con determinazione sorprendente per i suoi pochi anni decide di vivere da sola. Vivere da soli, guardare a se stessi, attendere a se stessi, vivere con se stessi sotto lo sguardo di Dio, sono queste le espressioni che la geografia dell'epoca usa per indicare il proposito della sceta. Una scelta che risponde al desiderio primario incontenibile di isolarsi dai luoghi comuni del vivere associato per guardarsi dentro, imparare a conoscersi e misurare le risorse personali con i comandamenti divini. La scelta ascetica è una scelta di introspezione, nella certezza che la ricerca di Dio passi anche e innanzitutto attraverso di sé. Se il conosci te stesso dei greci era massima fondamentale per i pensatori pagani, sono gli asceti cristiani a eleggere lo scopo principale, cui indirizzare totalmente la propria esistenza. Giovanissima, Macrina ne ha fatto il suo programma di vita. Per difendere l'irrevocabile decisione non si separa dalla madre neppure per un istante. È nel rapporto con lei che hanno origine le sue certezze e la forza del suo carattere. Emelia ripete spesso che, se ha portato in grembo per nove mesi tutti gli altri figli, continua a tenere Macrina dentro di sé, come se il cordone belcale non fosse mai stato tagliato. Per ogni vergine asceta, la relazione con la madre, positiva o negativa che sia, è imprescindibile nei passaggi successivi del progresso spirituale. Dopo il battesimo, Tecla ha voluto riconciliarsi con la madre, che l'aveva condannata a morte, consapevole che la maturità non può compiersi senza risolvere i rancori che derivano dai legami infantili. In Macrina, invece, la serenità spirituale viene dall'amore per la donna che l'ha generata. A suo modo, questa ragazza, in un mondo che dà precedenza a ciò che è maschile, assegna alla femminilità un primato intimo e personale e ne fa l'alveo del proprio slancio verso Dio. Lo scambio tra le due donne si arricchisce nel tempo. Prendevano, per lei, il posto delle cure di molte ancelle, i servizi che riceveva da parte della figlia. Buono era lo scambio che si realizzava fra loro, soddisfacente per entrambe. L'una si prendeva cura dell'anima della giovane, l'altra del corpo della madre. Questo non veniva fatto da Macrina come se fosse il suo compito principale, ma dopo aver santificato le sue mani con i servizi divini, ritenendo che si adicesse al suo genere di vita questo impegno. Nel tempo che le rimaneva, procurava a sua madre il nutrimento con le sue fatiche. Insieme al rifiuto del matrimonio, queste fatiche di Macrina mirano a cancellare nella sua esistenza quotidiana il costume pagano. Una ragazza del societo non si dedicherebbe mai deliberatamente ai lavori di casa, sceglierebbe occupazioni ritenute più aristocratiche come filare e tessere la lana. Assumendosi gli incarichi che di norma sono degli schiavi, Macrina obbedisce all'etica cristiana del lavoro. Fa propria la semplicità di Cristo falegname, dei suoi discepoli pescatori, dell'evangelizzatore Paolo, il più insistente nel ricordare che chi non lavora non deve neanche mangiare. La nobiltà della stirpe, con tutti i suoi corollari, non conta niente per un cristiano, il quale si preoccupa in primo luogo della nobiltà del proprio animo, un genere di primato che non riguarda quel che fa per mantenersi. Il lavoro altro non è che un obbligo, utile per guadagnarsi il pane, per non campare da parassita e per sfamare gli indigenti. Troveremo sempre presente tra i monaci anche i più esigenti sull'ordine spirituale, i più dediti alla preghiera e allo studio scritturale, il senso della grande importanza del lavoro manuale. La lode a Dio e la pratica della sua parola vengono prima di tutto negli eremi e nei monasteri, in questi primordi orientali come in occidente, ma il lavoro non è quasi mai trascurato. Il più ardente Anna Coreta, vegliando la notte intera per celebrare il Signore, intreccia giunchi e fabbrica canestri che saranno venduti per acquistare il pane e non si permette di restare inoperoso. La giovane Macrina è viva in questa religiosa alternanza, prima i servizi divini, poi il lavoro. E anche grazie alle occupazioni manuali che il suo rapporto con la madre si è rovesciato. Macrina nutre Emilia escludendo le ancelle, come un tempo Emilia la nutriva personalmente per non lasciarla la balia. Trasmessa alla figlia la propria inclinazione, la madre ricorda in lei ciò che è stata. Dopo averla educata si lascia rieducare, abbandonandosi a un tipo di esistenza immateriale più semplice. Uno stile che è sempre stato suo, al quale aveva rinunciato suo malgrado e che adesso ritrova. Altri otto o nove figli sono nati nel frattempo. Il loro padre, Basilio, è morto. Le proprietà di famiglia sono sparse in tre diversi province. Bisogna pagare tasse a tre governatori e le rendite non sono alte. Le ristrettezze economiche rinsaldano l'unità della famiglia. Macrina aiuta Emilia a trovare adeguate sistemazioni per le sorelle minori, finché non sono tutte sposate e intanto alleva ragazzi più piccoli, mentre i grandi sono fuori città per gli studi. La prima giovinezza è passata tra le preoccupazioni domestiche. A 27 anni, quando finalmente libera dagli impegni più gravosi, Macrina si prepara ad accogliere il rientro a casa di Basilio, che ha un anno meno di lei ed è il maggiore tra i fratelli maschi. Nella chiesa orientale di questo secolo sono tre i grandi difensori dell'ortodossia contro l'arianesimo, i teologi che definiscono in forma pressoché definitiva il dogma della Trinità. Basilio, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo. I primi due sono fratelli di Macrina, il terzo è un amico comune. Ma quando torna in famiglia nel 355, Basilio non è altro che un giovanotto di 26 anni spavaldo e molto sicuro di sé. Ha studiato filosofia e retorica ad Atene e Costantinopoli, le migliori scuole della sua area culturale e, come già suo padre, eccele nell'esercizio dell'arte oratoria. Per la sua mentalità raffinata, la città natale è provincia periferica. Gli amici di un tempo sono persone mediocri, i dignitari locali, gente da tenere nessun conto, anche se si distinguono nelle cariche della magistratura. In effetti la Cappadocia non ha mai goduto nel mondo antico di alcun genere di rilevanza e i suoi abitanti nelle maggiori città greche hanno fama di scarsa consistenza intellettuale. Regione interna e montana, circondata da popoli di civiltà fiorentissima, ne ha subito in diverse epoche la dominazione politica. Gregorio, il taumaturgo, evangelizzandola, vi ha trapiantato un illustre filone del pensiero patristico, quello di origine, trovando terreno vergine alla crescita rapida e fervorosa di movimenti ascetici. La patria di Basilio ha iniziato dunque a fruttificare sul piano spirituale dopo secoli di marginalità culturale. Macrina sembra comprendere con chiarezza questo fenomeno, quando, scoprendo il fratello, insuperbito oltremisura per le sue capacità nell'oratoria, lo richiama valori meno scontati dei virtuosismi verbali, al senso della filosofia come lei lo intende, amore per la verità predicata dal Cristo. In breve il giovanotto rinuncia ad ogni notorietà e inizia a disertare i luoghi mondani per intraprendere una vita di lavoro e di opere fatte con le proprie mani. Per una sorta di dialettica paradossale che domina sempre i percorsi biografici degli asceti, proprio a partire da una scelta di modestia che lo sottrae all'ammirazione pubblica, basilio conquisterà nel tempo una fama ben superiore a quella che la città natale e la professione retorica gli avrebbero garantito, diventando famoso in ogni terra che il sole illumina. A due anni dal rientro in famiglia, nel 357, quest'uomo destinato ad un glorioso episcopato riceve il battesimo e decide di partire per un viaggio di apprendimento, attraverso gli ambienti monastici orientali, spingendosi fino in Mesopotamia e in Egitto. Al suo ritorno si stabilisce definitivamente in Cappadocia, dove il movimento monastico fa capo all'austera figura di Eustazio di Sebaste, ed è dominato da selvaggio rigore tra le differenze dei cristiani e le violente critiche dei pagani, tra le diffidenze dei cristiani e le violente critiche dei pagani. Dopo aver trascorso qualche tempo alla scuola di Eustazio, merito di basilio sarà rinnovare la vita ascetica secondo concezioni più distese e misurate, quindi accessibili ad un maggior numero di credenti. L'amico Gregorio di Nazianzio, già compagno di studi in Atene, lo ha raggiunto per lavorare con lui alla compilazione delle opere di origine, e molti altri discepoli gli si radunano intorno. È uomo di buon carattere, calmo e positivo, che sa valersi della cultura profana per spiegare con metodo e chiarezza l'insegnamento di Gesù. Macrina ha altri tre fratelli, Naucrazio, Gregorio e Pietro. Naucrazio è nato dopo Basilio, terzo genito di Emelia, e Basilio, il vecchio. Ha vent'anni in persona la perfezione dell'ideale, bellissimo, intelligente, atletico fisicamente e moralmente energico, l'immagine splendente del vigore virile. Terminati gli studi quando pronuncia il suo primo discorso pubblico, entusiasma e sbaludisce la platea. Tuttavia non sa compiacersi delle acclamazioni del foro, preferisce passare il suo tempo tra caccia e pesca nei boschi non lontani dal fiume Iris. Abbandonata la città, va ad abitare in una grotta, con al seguito un solo servitore. Secondo il fratello Gregorio, Naucrazio in questa ferina esistenza pratica a suo modo l'eremitismo. Si nutre soltanto di ciò che può procurarsi con le mani e sfama alcuni anziani che vivono nei pressi del suo rifugio. In realtà l'atletico giovanotto, amante delle selve, tanto simile a un autentico seguaccio della Dea Artemide, non corrisponde quasi niente al tipo dell'eremita cristiano. La caccia è un'attività inaccettabile per un'autentica osceta. Secondo le scuole ascetiche più raffinate, il monaco rifiuta perfino di compiere lavori agricoli, entro la cinta ad un orto, per evitare di deconcentrarsi. A maggior ragione andare a caccia, vagabondare, appostarsi e addirittura uccidere animali e poi nutrirsi delle loro carni è del tutto inconcepibile per un uomo votato al Signore, che alla sua mensa ammette solo pane e vegetali. Uno degli aspetti più amabili del monachesimo primitivo è il fenomeno che vede uomini e belve convivere pacificamente nella penuria dei territori più isolati, per cui talvolta gli animali selvaggi si presentano le soglie degli eremi con richieste di miracoli, offerte di aiuto e perfino doni amichevoli. Incantevole è quel racconto che ha per protagonisti un'eremita e una iena. Dopo aver curato dalla cecità i cuccioli della iena, il solitario si vede recapitare in segno di gratitudine una pelle di agnello, con la quale si fa un tappeto. Risalito nella storia dell'uomo fino ad Adamo e al suo paradiso perduto, l'Anna Coreta vive nel deserto come in un Eden e le bestie feroci gli sono sottomesse. Naucrazio pare dunque, con la sua selvaggine insanguinata a tracolla, una figura come minimo anticonvizionale nel paesaggio del monachesimo. Forse al di là di ogni encomio fraterno, questo giovane si sente strano alle chiacchere della piazza cittadina, ormai decaduta nei valori e nei sentimenti dei cristiani ipointegrali, e ricerca uno spazio personale di riflessione nella selva. Vissuto nelle leggi della natura, nelle leggi della natura Naucrazio muore a soli 22 anni. Immersosi nelle acque del fiume Iris per districare una rete, rimane a sua volta incagliato sul fondale. Da questa disgrazia Emelia riceve un colpo durissimo, ma ama Crina con sé, che la persuade a non lasciarsi andare come una qualunque femmina, a non stracciarsi le vesti e urlare il suo strazio, ma comportarsi dignitosamente e accettare la prova. La donna cristiana che partorisce creature di Dio non può pretendere di avere il controllo del loro destino, ma si affida la volontà celeste nella buona e nella cattiva sorte. Il compianto disperato per il figlio morto si addice ad una pagana, ma indegno di una cristiana. Abbandonandosi all'appoggio morale di Macrina, Emelia si riprende dallo sconforto e decide di privarsi di tutte le proprietà della casata per distribuirle ai figli. Il rapporto con la sua primogenita si è ormai copovolto. Anziana e ferita, Emelia elegge in lei la propria guida, e anche la giovane donna è pronta per un cambiamento. Ormai hanno cancellato il loro ceto di provenienza e hanno rinunciato completamente ai servizi delle schiave, affrancandole come sorelle. Poco lontano da Neocesarea, nel villaggio di Annisoi, sulle sponde dell'Iris, formano una comunità femminile, radunando insieme le donne di casa anche vedove, orfane e ragazze. Nei pressi vivono anche alcuni monaci che fanno gruppo intorno a Basilio e Gregorio di Nazianzo. Da queste fondazioni femminili e maschili, che hanno origini familiari, e una vergine quale epicentro, nasce una delle prime regole del monachesimo cristiano, la seconda precisamente, mentre il primato vale gizzano Pacomio, di qualche anno precedente. Quando Basilio scrive la sua legislazione si è ormai staccato dalle influenze del maestro Eustazio, dalla sua concezione aspra della rinuncia, e ha conquistato un nuovo equilibrio nella mortificazione corporale. Un senso della convivenza consono la sua natura morigerata e generosa. Durante una terribile carestia che ha colpito la regione, ha venduto le sue proprietà per soccorrere gli affamati. Anche in futuro, il fatto di essere un contribativo non gli impedirà di fondare ospedali ed elargire aiuti ai bisognosi con criteri molto illuminati, e una concezione assai estesa dell'operato religioso. E tuttavia, quale maestro d'ascesi? Basilio non rinnega il solco tracciato dagli anziani, ma al contrario ribadisce i presupposti perché il suo discepolo sia un'attentico asceta, nella vita materiale come in quella spirituale. I cenobi maschili, sebbene si trovino presso le dimore delle vergine, non intrattengono con esse rapporti diretti. Gli scambi sono bensì rari, controllati e attentissimi. I legami di sangue fra alcuni membri degli uni e degli altri non offrono pretesti di nessun genere e a nessun genere di familiarità. Le sorelle vivono in perfetta autonomia interna, governandosi da sé. Soltanto il sacerdote può accedere alla loro dimora per amministrare i sacramenti, e mai per nessuna ragione gli è concesso appartarsi con qualcuna, sia pure motivo della confessione. Non gli è consentito neanche assegnare una penitenza ad una delle vergine senza che la madre spirituale ne sia informata. Il superiore del cenobio maschile, gemellato, non ha diritto di interferire nelle questioni interne. Salvo queste precisazioni che mirano a scongiurare ingerenze maschili nell'universo mistico femminile, quanto a salvaguardare la purezza, la disciplina è identica per gli uomini e per le donne. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questo è il primo e il più grande dei comandamenti. Il secondo è simile a questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. È questo passo evangelico al quale si richiama ogni aspetto della vita comune, l'ispirazione della regola basiliana. Vivere spontaneamente secondo le leggi dell'amore non sembra troppo arduo per questi gruppi religiosi, dato che secondo Basilio l'anima porta in prezzo da Dio, fin dalla stessa prima creazione, la virtù dell'amore. E in ciò non è affatto necessaria una prova dall'esterno, poiché ognuno ha in sé stesso le prove di quanto affermiamo. Una grande fiducia nelle naturali inclinazioni dell'uomo verso il bene ispira la sua dottrina e il suo sereno sentimento del divino. Sento l'amore di Dio in modo del tutto ineffabile, ed è tale che si può piuttosto sentire che esprimerlo. È una luce indescrivibile. Anche se la parola usasse e prendesse a paragone i fulmini o il lampo, l'udito non lo sopporterà, anzi neppure lo percepirà. Un tale splendore non si vede con gli occhi del corpo, si può solo contemplare con l'anima o con l'intelletto. Pervaso dalla gratitudine per il suo creatore, la sceta basiliano ama con grande naturalezza i suoi fratelli e amando i fratelli perfeziona l'amore per Dio. Il senso comunitario prevale, questi uomini e queste donne non credono che la solitudine acerba del più eroico remitismo possa segnare il solco di un'autentica alternativa alle società mondane, né che la scesi sia questione individuale. La scesi è per i basiliani sempre un fatto collettivo. Guai a chi solo perché quando cade non avrà nessuno al suo fianco per sollevarlo. È questo principio scritturale a modellare le relazioni cenobitiche. Per seguire realmente Cristo è necessario rigettare i compromessi della convivenza sociale e ritirarsi insieme ad altri che condividano la stessa aspirazione. In tal modo spezzeremo anche le vecchie abitudini con le quali agivamo contro i comandamenti di Dio. Non è davvero poca fatica che uno si distacchi e si allontani da un'abitudine precedentemente non buona, poiché un metodo di vita reso più radicato per il lungo tempo in cui si è seguito acquista quasi una forza naturale. Bisogna dunque che prima di tutto rineghiamo noi stessi, accettiamo la croce di Cristo e così lo seguiamo. La rinuncia alla volontà propria, personale, presupposto della scelta monastica è una terapia che si può praticare solo con l'obbedienza e con l'appoggio di chi condivide il medesimo proposito. Nessun uomo come nessuna donna in questo caso è autosufficiente. Le comunità sono rette da un superiore che si occupa amorevolmente di tutti. Lavoro, preghiera, meditazione sui testi sacri si alternano con regolarità. Dopo aver rinunciato ogni proprietà personale per darla ai poveri, i fratelli e le sorelle lavorano per mantenersi e per fare l'emosina, come già macrina adolescente, e pregano con ordinata continuità per rispondere all'invito rivolto da Cristo e discepoli, pregate incessantemente. Con la meditazione sulle scritture liberano l'animo dai pensieri maligni, dall'incostanza, dal disordine, dai cattivi sogni. L'abito degli uomini come delle donne e la divisa del loro proposito. Semplice e sobrio, privo di ordamenti, poco costoso, utile a riparare dal freddo e salvare il pudore, non certo volto ad abbellire. È unico per il giorno e per la notte, per l'interno e per l'esterno. Anche il cibo, come l'abito, deve essere semplice, deve consistere cioè in quanto si può reperire facilmente a poco prezzo nella regione dove si vive. Unica bevanda è l'acqua, ma agli infermi si concede qualche volta un po' di vino. Se qualcuno si dimostra troppo attaccato agli studi e vuole ad ogni costo dedicarsi alle lettere, gli è proibito farlo senza il controllo del superiore. Secondo l'esortazione dell'Apostolo, non ciò che volete dovete fare. Emelia, donna di tanto intensa spiritualità da essere capace di dialogare con il divino, anche fra le sofferenze del parto, vede rifiorire in altri figli, non solo in Macrina, la propria vocazione frustrata. Nel 370 Basilio è diventato vescovo di Cesarea, una città che estende la sua autorità episcopale su tutta la Cappadocia. Soltanto Gregorio sembra ancora restio. A differenza del fratello, non ha frequentato le prestigiose scuole atenesi, ma ha completato gli studi in patria. Nonostante questo, tra i figli di Basilio il Vecchio, sarà quello che più a lungo si cimenterà sull'esempio del padre. A Cesarea, per qualche tempo, ha svolto l'incarico di lettore in chiesa, primo gradino nella gerarchia ecclesastica, però poi viene rinunciato per sposarsi con una fanciulla chiamata forse Teosebia. Durante il regno di Giuliano l'Appostata, in pieno clima di controoffensiva al cristianesimo, si è dato all'insegnamento della retorica e si è guadagnato rapidamente fama di docente d'eccezione. Entro qualche anno, tuttavia, anche questo figlio di Emelia sarà recuperato all'influenza di Macrina e di Basilio. Ed è proprio Basilio, ad un anno dall'elezione a Vescovo, ad incaricarlo di comporre un'opera sulla verginità. La Cappadocia sta assumendo un'importanza centrale nel mondo cristiano orientale e continuerà ad essere, nei prossimi decenni, un centro principale di irradiazione. La regola basiliana e le sue fondazioni cenobitiche e caritative hanno imposto all'attenzione del mondo monastico un parametro ormonioso e completo. Il nuovo corso esige una sua letteratura. Uomo di carattere ingenuo e di scarso senso pratico, Gregorio è invece un grande talento speculativo. Entro un anno diventerà Vescovo, di Nissa, piccola città orientale a cui sarà poi per sempre legato il suo nome, il nome di uno dei più affascinanti esegeti del pensiero cristiano. Quando il fratello maggiore, per il quale nutre una vera e propria venerazione, lo incarica di scrivere sulla verginità, Gregorio è la sua prima prova letteraria, pur avendo quasi 40 anni, un'età quindi più che matura per i tempi. È anche la prima volta che si confronta in un'opera con la figura della sorella. Macrina non sarà mai nominata in questo lavoro, indirizzato soprattutto ai giovani, però è il suo riferimento interiore più certo e immediato, la vergine per eccellenza nel patrimonio delle memorie private. Lei che caparbiamente ha scelto Dio in un'età ancora tanto tenera, con saldezza più che adulta. È come se scrivendo il suo primo libro, Gregorio si preparasse a tratteggiare in seguito, in modo più esplicito, la persona di Macrina, sia nella sua biografia che nel dialogo filosofico del quale sarà protagonista. L'impresa che la sorella intraprende fin dalla cerba adolescenza, la purificazione dagli impulsi carnali e dalle passioni dell'animo, è il grande argomento che il Nisseno svilupperà, per gradi, nelle tappe del suo progresso speculativo. Per questo è con Macrina, che necessariamente deve misurarsi. Lui che ha preso altre strade, ha conosciuto il piacere del plauso e del successo professionale, si è innamorato di una donna e l'ha sposato, l'ha sposata, ha provato l'ebrezza delle speranze nuziali e poi la realtà del matrimonio. Quella della sorella è un'esistenza parallela, che avrebbe potuto essere la sua e non è stata. Adesso, facendo il bilancio degli anni giovanili, Gregorio si abbandona al rimpianto per la grande elevazione morale di lei, alla quale ha rinunciato quando si è lasciato il retire nelle inquietitudini di una vita condivisa. Se ora passa in rassegna i motivi della felicità coniugale, la bellezza dell'amata, lo splendore del suo sguardo sotto le ciglia, il suono suave della sua voce, quell'ansia piacevole di dare sempre il meglio di sé, che è propria degli innamorati e non da ultimo i figli, immagine fisica dei genitori. Non può fare a meno di constatare quanto struggimento sia implicito in tutto questo. Il timore di perdere ciò che si ama avvelena ogni istante. Nel matrimonio più felice non esiste gioia che non sia oscurata, perché il perenne sottointeso è il trascorrere del tempo, con lo svanire della giovinezza e dei suoi richiami illusori, il declino fisico, l'inevitabile incedere della malattia e della morte. Nel momento in cui l'appagamento è più completo, se non è l'invidia altrui a ferirci, saremo noi stessi a cacciarci nella trappola mortale dell'avidità, per guadagnarci ricchezze ed onori che diano lustro e stabilità alla casata, con quella smania di possedere che è propria di chi si innamora di un altro essere umano. Il matrimonio è in realtà il luogo geometrico dove convergono tutte le umani passioni. Il cielo lo benedice effettivamente, ma non è in esso che può esprimersi la parte migliore del nostro essere uomini o donne, quella zona dell'anima immune da passioni che assomiglia a Dio perché è stata fatta a sua immagine e che le esigenze della materia soffocano, come una moneta d'oro che recchi le figie del re e rimanga sepolta nel fango. La nostra aspirazione costante dovrebbe essere quella di contemplare le realtà superiori, incorpore e pure, che sono simili a Dio e non prendono né moglie né marito e rendersi uguali a Elia e Giovanni Battista, che non si preoccupavano di ciò che mangiavano o di come si vestivano e mai sarebbero divenuti profeti se si fossero lasciati distrarre dal matrimonio. Per riuscirci dovremmo rinunciare all'impulso naturale e di investire le nostre forze in ciò che è destinato a finire. Una donna dalla quale la morte ci separerà, dei figli che offriranno per una breve stagione l'illusione di rinnovarsi della giovinezza. L'unione di corpi mortali non può che produrre corpi mortali e perpetuare la condanna assegnata ad Adamo nel momento in cui fu cacciato dal paradiso originario. Quando Dio creò l'uomo non creò con lui anche la morte ed il male, ma gli regalò la possibilità di partecipare al bene infinito insieme ad una compagna. In seguito uomo e donna scelsero volontariamente il male, quella mescolanza di male e di bene che è propria della nostra vita attuale. Allora furono rivestiti con palli di animali morti e la morte subentrò come condizione della loro esistenza. Dopo e soltanto dopo vennero il desiderio sessuale, la vergogna del corpo, la fatica del sopravvivere, l'accoppiamento, il parto nel dolore ed i figli che offrirono ai padri una parvenza di continuità. Ma dal primo giorno di vita furono condannati a loro volta a diclinare in modo irreversibile verso il decesso. Ripercorrendo questo itinerario si comprende che il matrimonio è il punto d'arrivo alla fine della caduta e che è necessariamente dal matrimonio che bisogna partire per iniziare la risalita. Da Eva in poi ogni generazione ha conosciuto l'angoscia dell'esistere al di fuori del bene divino. Mai Maria l'eredità nefasta si è dissolta perché in lei è stata concepita con Gesù la possibilità della risurrezione. Ogni vergine cristiana evitando di ospitare in sé il seme e il corpo di un uomo mortale può rendersi simile a lei per generare Cristo in in spirito, in pensieri e atti e strani alle cose che finiscono. In luogo di nozze terrene ottiene allora nozze spirituali, vale a dire la simbiosi del suo essere con il divino, e la sua morte fisica non sarà più dolorosa separazione dall'amato, ma definitivo congiungimento. A questo genere di nozze senza macchia e senza termine possono aspirare sia donne sia uomini allo stesso modo, come esplicitamente ha detto Paolo, non c'è più né giudeo né greco, non c'è né servo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete una sola cosa in Cristo. In precedenza l'ideale verginale non aveva mai ricevuto tanti attestati di nobiltà, altri scrittori patristici affrontando l'argomento avevano steso libelli moralistici, nei quali l'unione fisica tra uomo e donna risultava un atto sordido, oppure si erano limitati ad elencare le noie della vita coniugale, proponendo la scelta religiosa semplicemente come migliore opportunità. Gregorio di Nissa affronta la questione con apertura inusuale, indagando le leggi del mondo naturale e soprannaturale e la posizione dell'uomo nel cosmo. Della verginità Gregorio non fa un tema circoscritto, ma una chiave che apre la visione della realtà umana e dell'universo. Nel suo libro, scritto su richiesta di quell'uomo equilibrato che è Basilio, non appare un'ombra di fobia verso il sesso. Se si ridimensiona il matrimonio al quale la natura umana è spontaneamente incline, è per avere una più chiara visione dell'essere uomini. I lettori sono dunque invitati in modo esplicito a non svilire la verginità, ad idea angusta o dovere astratto, a non ridurla a mero controllo della carne. La verginità è invece un fatto di anima più che di corpo, dato che riproduce la condizione di Dio. Il vivere sola di Macrina, dodicenne, nel trattato di Gregorio diventa la condizione esistenziale del saggio, che tutti dovrebbero imitare. Essere vergini come Dio, per arrivare a questa semplice definizione, Gregorio ha tessuto un discorso nel quale, come felicemente è stato scritto, dialogano tutte le armonie del pensiero antico. D'ora in poi la sua attività letteraria non conoscerà sosta. Proprio negli stessi mesi che vedono il battesimo letterario del Nisseno, sua madre Emilia, dopo una splendida vecchiaia che non ha conosciuto afflizioni, si prepara a morire. Durante l'agonia nomina e benedice i figli, lontani e vicini, ma Crina è l'ultimo nato, Pietro, la sua primizia e la sua decima, il primo e il decimo dei suoi frutti offerti a Dio, come gli ebrei sollevano fare con i loro raccolti in segno di ringraziamento. Qualche tempo dopo Gregorio viene consacrato vescovo di Nissa. Il fatto che sia sposato non costituisce per il costume ecclesiastico dell'epoca un impedimento. Sua moglie Teosebia probabilmente vive in castità presso la chiesa. Nonostante sia un politico maldestro, Gregorio dominerà insieme a Gregorio di Nazianzo e al fratello Basilio sulla spiritualità dell'Oriente cristiano, con la conseguenza che spesso la sua quiete privata di speculatore ne sarà compromessa. Nel 375 una congiura ariana ha buon gioco nell'accusarlo di aver disperso i beni della chiesa di Nissa. Scampato all'arresto con la fuga, soltanto dopo tre anni potrà tornare alla sua cattedra episcopale. L'anno successivo Basilio muore, non ha che cinquant'anni e la sua scomparsa prematura addolora tutti i credenti di Cappatocia, che lo conoscevano attraverso le sue opere benefiche. Gregorio ne è prostrato e nei giorni successivi alle esequie pensa a Macrina con nostalgia pungente, non la vede da diversi anni a causa degli impegni pastorali che l'hanno completamente assorbito e vorrebbe piangere con lei la memoria del fratello, condividere la pena per sentisserne sollevato. Un giorno, reduce da un concilio ecclesiastico, trovandosi sulla via che da Antiochia lo riporta a Nissa, viene colto da un presentimento e decide di deviare verso Neocesarea per recarsi ad Annisoi. Durante una tappa di questo malinconico tragitto viene visitato da un sogno, gli sembra di portare fra le mani reliquie dalle quali emana una luce vivida, come se da uno specchio si riflettessero i raggi del sole e al risveglio quella visione abbagliante gli lascia un senso di timore. Giunto a destinazione il triste pesaggio si conferma. Gregorio non trova ad attenderlo né il fratello minore né la sorella. Pietro gli è venuto incontro per via con l'intenzione di comunicargli qualcosa, ma evidentemente ha percorso un'altra strada perché non si sono visti. Quanto a Macrina non viene a ricevere dall'ingresso del monastero e non si fa vedere neanche in chiesa per le funzioni, infatti si trova a letto ammalata. Guidato in silenzio fino alla cella dell'inferma, Gregorio la scorge distesa su un tavolaccio per coperta a un sacco e al posto del cuscino una trave le solleva il collo alla meglio. Sebbene non sia in grado di alzarsi per abbracciarlo, Macrina tenta ugualmente di narcare il busto puntando i gomiti sul legno e intanto trattiene i lamenti, ma è evidente che dolori lancinanti la stanno torturando. Non di meno è affettuosa come sempre ed è con grande serenità che ricorda Basilio e la sua morte. Questa calma della sorella che si appresta a passare tranquilla e sicura al barco della fine impressiona Gregorio e continuerà ad impressionare i suoi pensieri anche a distanza di anni, ogni volta che la sua mente di esegeta lo porterà a scandagliare attraverso le scritture le massime questioni relative all'esistenza terrena. Se il racconto non rischiasse di prolungarsi all'infinito, io esporrei fedelmente tutte le sue opere, come si era sollevata con il suo discorso, discutendo filosoficamente in chiave cristiana con noi sull'anima, spiegando la causa della nostra vita nella carne e per quale motivo l'uomo nasce e come sia mortale, da dove venga la morte e quale sia la liberazione che attraverso la morte stessa ci fa passare di nuovo alla vita. In tutti questi argomenti, come se fosse stata ispirata dallo Spirito Santo, passava in rassegna tutte le implicazioni con chiarezza e con rigore logico, poiché il suo discorso scorreva con enorme facilità, come da una fonte l'acqua liberamente fluisce giù da una china. A un certo punto la moribonda incomincia a preoccuparsi per il fratello, che di certo sarà stanco dopo il viaggio e lo prega di andare a riposarsi. Non volendo contraddirla, Gregorio si ritira sotto la pergola ad un giardinetto appartato del monastero, ripensa al sogno delle reliquie, al presagio di un transito luminoso dalla terra ai cieli e comprende che sarà il transito dimagrina. Più tardi viene chiamato a mensa e gli vengono serviti tutti i piatti che gli piacevano quando era ragazzo. Evidentemente la sorella ha pregato le vergini di prepararli per lui, vezzeggiandolo anche dal letto di morte. Commosso fino alle lacrime, Gregorio torna da lei e la trova immersa in nuove riflessioni. Per volontà di Dio la sua esistenza era stata tale, ella affermava, che non aveva mai cessato di esercitare le mani nei precetti divini, mai aveva guardato a un uomo, mai a titolo di beneficio umano le erano venuti aiuti per un decoroso tenore di vita, mai neppure aveva respinto coloro che le chiedevano qualcosa, né mai aveva cercato chi le facesse la carità. Perché Dio nascostamente faceva germogliare con le sue benedizioni, come semi, le magre risorse che provenivano dal suo lavoro, fino a produrre un frutto abbondante. Ora Macrina vuole sapere dal fratello cosa gli è capitato negli ultimi anni, ascoltato il racconto del suo allontanamento da Nissa a casa degli Ariani e vedendolo scoraggiato inizia a rimproverarlo. Non smetterai di comportarti in maniera misconoscente nei confronti dei beni divini? Non curerai l'ingratitudine della tua anima? Non metterai a confronto la tua condizione con quella dei tuoi genitori? Eppure, secondo il modo di pensare del mondo, di questo, soprattutto possiamo essere orgogliosi del fatto di apparire di buona nascita e sembrare provenire da genitori elevati. Nostro padre era molto stimato ai suoi tempi per la sua cultura, ma la sua fama si estendeva solo fino ai tribunali del paese. In seguito, anche se egli era superiore agli altri per la sua arte retorica, la sua reputazione non uscì dal ponte, dal ponto, ma si contentava di essere ammirato in patria. Tu invece sei famoso nelle città, fra i popoli, nelle nazioni. Le chiese mandano te per stringere patti e raddrizzare situazioni. Altre chiese chiamano te. Non vedi la grazia di cui sei oggetto? Non riconosci la causa di beni tanto grandi, cioè che sono le preghiere dei nostri genitori a spingerti in alto? Quando tu, di tuo, non hai nessuna o poca predisposizione naturale per tutto questo? In effetti non sarà per la sua accortezza nello sbrigare le faccende ecclesiastiche che Gregorio Nissieno si guadagnerà la sua fama, ma Macrina sembra ignorare in lui il grande teologo e voler vedere solo il diplomatico pasticcione. Del resto è tutta presa dal desiderio di lasciare la vita terrena e nulla di ciò che si lascia alle spalle in questo mondo sembra più interessarla. Scende la sera, Macrina prega finché la sua bocca è in grado di articolare, rivolgendosi a Dio, a quel Dio che la sua anima amò con slancio fino a quando era nel grembo di sua madre e è cancellato in lei ogni paura della morte. Poi la sua voce si affievolisce e solo le labbra continuano a tremare. Quando fa buio e si accendono i lumi, pronuncia l'orazione vespertina, espira. Fino a quel momento le sorelle sono rimaste zitte, ma non appena si accorgono che Macrina è morta incominciano a lanciare urla strazianti. Una lamenta ad aver perso la madre, l'altra ad essere rimasta senza guida, altre ancora ricordano ad essere state strappate alla fame, al disonore, all'assilutudine più disperata. Gregorio si lascia travolgere dalla loro emozione, ma a un certo punto gli sembra che dal volto di Macrina gli giunga un severo rimprovero per quello schiamazzo. Impone dunque il silenzio alle vergine e le manda via dalla cella, trattenendo solo la monaca vezziana e la diaconessa Lampadio. Vorrebbe rivestire il corpo della defunta con finissimo lino, ma le due donne non sono sicure che ciò corrisponde alla volontà di lei. Inizia allora un messo dialogo tra Lampadio e Gregorio, il quale, vagliando le possibilità di una degna sepoltura, rievoca lo stile di vita di Macrina. Dunque, le dissi io, se io facessi portare qualcuna delle cose che io tengo pronte per la mia soppoltura, sarebbe un andare contro la sua volontà? Lei rispose, Macrina, ancora viva, avrebbe accettato un simile onore da parte tua per due ragioni. Per la tua dignità sacerdotale, sempre per lei motivo di rispetto, e per la parentela, non avrebbe mai considerato come estraneo ciò che apparteneva al fratello, per questo aveva raccomandato che il suo corpo fosse ornato dalle tue mani. Investito del compito solenne, Gregorio lo adempie, con commozione ricompone nei propri panni episcopali la donna che ha ispirato tanta parte della sua vita delle sue opere. Durante l'avestizione, accostando il lume al seno della defunta, Lampadio mette in mostra una piccola circatrice e racconta che tempo addietro Macrina fu colpita in quel punto da un tumore maligno. Il male progrediva estendendosi sul collo e sul petto verso il cuore. Sebbene Emilia, allora ancora viva, la supplicasse di consultare al più presto un medico, lei preferiva sopportare il male e le sue conseguenze piuttosto che denudarsi di fronte agli occhi di uno estraneo. Una sera entrò in chiesa e per tutta la notte pregò i Dio che la guarisse, tanto a lungo che all'alba le sue lacrime avevano impregnato la terra sino a formare una poltiglia. Raccolto con una mano un po' di quel fango, Macrina se ne spalmò la parte malata e tornò dalla madre per domandarle di tracciarvi un segno di croce. L'effetto fu immediato, il gonfiore disparve lasciando solo un piccolo segno malapena visibile a testimonianza del prodigio. La vitalità mistica di Macrina le veniva dalla madre e a lei riconduceva. In molti ne erano toccati, i fratelli, le donne che le vivevano accanto, ma la forza della sua fede risiedeva solo nella sua radice femminile, alla quale la legava un profondo senso di appartenenza. In quella radice viveva la simbiosi, con il divino che sola consente il miracolo. Nell'abito bianco del fratello, Macrina assomiglia adesso a una sposa. Le donne osservano che non è bene mostrarla abbigliata come per una festa di nozze e le stendono sopra un mantello nero che apparteneva ad Emilia, perché la bellezza del volto rifulga di per sé e non per lo splendore della veste. Ma anche così coperta la salma continua a emanare luce propria, evocando nella memoria del fratello il sogno premonitore, quando sulla via di Annisoi gli parve di essere abbacinato da reliquie lucenti. E l'alone luminoso rammenta anche, senza che Gregorio vi faccia esplicito riferimento, la bellezza adolescente della fanciulla, quei tratti di una perfezione così fuori dal comune, che neppure i pittori riuscivano a ritrarre, segno di predestinazione e la capacità di accedere realtà superiori. Le esequie vengono celebrate con l'ufficio che solitamente si dedica alle feste dei martiri, perché martiri viene considerata l'estinta da quanti la conobbero per le privazioni cui si sottopose la dedizione altruista. Giunto il momento di trasportare il corpo, un gruppo di sacerdoti prende il feretro in spalla, mentre la folla intorno si fa sempre più ingovernabile. Il cataletto ondeggia e si muove lentamente sulla massa e lacrime, così che per coprire i sette o otto stadi che separano il cenobio dal sepolcro occorre un'intera giornata. In quel sepolcro si trovano già i corpi di Basilio il Vecchio ed Emelia. Al timore che nella commozione generale si verifiche qualche incidente, in Gregorio si aggiunge la pressione per ciò che lo aspetta al momento di levare la lapide tombale. I corpi dei genitori gli appariranno polverosi e scarnificati e forse la colera divina si abbatterà su di lui, se come il figlio di Noè sarà spettatore della loro nudità. Gregorio chiede pertanto che prima di spostare completamente la lapide i cadaveri all'interno siano coperti da lenzuola. L'ordine è eseguito e Macrina viene distesa accanto alla madre secondo la sua espressa volontà. Giunto il momento di tornare alle sue attività, Gregorio si rimette in viaggio verso Nissa. Lungo la strada incontra un parente che ebbe modo di conoscere Macrina e che gli racconta un prodigio da lei compiuto quando guarì la sua figlioletta affetta da infezioni agli occhi. In seguito altri lo mettono al corrente di fatti analoghi che tuttavia il nostro vescovo non vuole riferire. Quando ormai vedovo si ritirerà finalmente nella pace di Anisoi a scrivere, tra le sue memorie, la biografia di Macrina, neanche allora crederà opportuno di dilungarsi sugli aspetti soprannatulari dell'esistenza di lei, sembrandogli forse di profanare o volgarizzare in qualche modo la sua privata vita mistica. La maggior parte degli uomini giudica la credibilità di quanto viene raccontato secondo il metro delle proprie esperienze, mentre ciò che supera le effettive capacità di chi ascolta viene bollato come estraneo alla verità, con il sospetto che si tratti di una menzogna. Perciò io ometto di parlare di quell'incredibile raccolto effettuato durante la carestia e di come il grano, benché distribuito dal granaio secondo le necessità, non desse per nulla l'impressione di diminuire, perché rimaneva dello stesso volume, sia prima di essere elargito secondo i bisogni di quelli che lo chiedevano, sia dopo. Tralascio anche altri fatti ancora più straordinari di questo, guarigioni dalle malattie, liberazione dai demoni, predizioni veritiere di avvenimenti che stavano per accadere. Tutti questi brodigi sono ritenuti veri da coloro che li conoscono perfettamente, anche se si collocano al di là del verosimile. Invece sono considerati inaccettabili da persone troppo carnali, le quali non sanno che in proporzione alla fede avviene la distribuzione dei doni divini, poca per coloro che hanno poca fede, grande perché ha dentro di sé ampio spazio per credere. Per non turbare i non credenti che non hanno fede nei doni di Dio, così dunque ho evitato di narrare uno dopo l'altro i miracoli più elevati, ritenendo sufficiente concludere con quelli già raccontati, con quelli già raccontati. Come i miracoli che suscitano saggio pudore nel fratello, l'intimità di Macrina resta misteriosa. La letteratura può farci partecipare agli slanci di un'avventuriera, alle emozioni di una viaggiatrice, alle passioni di una eroina dal sentimento amoroso, ma ci lascia all'oscuro dello stato d'animo di una mistica, dal quale siamo per forza di cose esclusi. Gregorio è consapevole che le proprie parole dedicate alla sorella compongono un ritratto biografico piuttosto fedele all'ordine e alla realtà degli avvenimenti concreti, di cui in gran parte fu personalmente spettatore, e che gli furono riferiti da altri testimoni diretti. Ma sa che il suo scritto può essere solo il debole riflesso di una esistenza che rimane per lo più indescrivibile nella vena esistenziale che l'alimenta. Certo è che nulla della vita di Macrina tocca l'animo del fratello come la sua morte, alla quale riserva più della metà del racconto, al punto che in confronto agli episodi precedenti non sembrano che meri preamboli del grande evento. Gregorio non indugia mai sui ricordi di infanzia e sulla casa delle origini, sugli oggetti cari condivisi, né sugli affetti comuni per quanto essi possono essere motivi di impianto. Accanto al letto della sorella il nisseno comprende che se si trovasse al suo posto non saprebbe mantenersi altrettanto tranquillo, e che il panico di fronte all'ignoto offuscherebbe la sua intelligenza razionale. L'ammirazione che ha sempre nutrito per Macrina trova nella sua fine conferma il significato. A questa fine Gregorio dedica un più impegnativo libello che intitola L'anima e la Ressurrezione. Scrivendo la biografia della sorella ci ha avvertito di non potersi troppo dilungare sul suo testamento spirituale con il quale lei si levò ad altezza sublime. Ma in quest'altra opera, tutta focalizzata su quell'altezza, Gregorio offre direttamente la parola alla protagonista. Per cominciare rievoca il proprio stato d'animo di allora, la pena per la morte di Basilio. E si ritrova ancora una volta al capezzale di Macrina morente in un disteso clima religioso. Gli affanni dei momenti estremi non traspaiono neppure incidentalmente in questo colloquio che verte sull'anima umana e su Dio, e che attingendo al pensiero dei secoli passati, descrive la posizione dell'uomo nel cosmo in una globale visione cristiana. Come il giovane Basilio, ad anni soi, usava le proprie conoscenze classiche per illustrare l'Evangelo ai discepoli, lo stesso metodo impiegano adesso i suoi fratelli sopravvissuti per tessere un discorso rivolto ai posteri. L'atmosfera è quella di uno dei più noti fra i dialoghi di Platone, il fedone, nel quale Socrate mette alla porta la moglie Santippe, allunga gli arti appena sciolti dalle catene e si prepara a morire, rassicurando i discepoli circa l'immortalità dell'anima oltre la vita del corpo. Anche Macrina, agonizzante, vuole confortare Gregorio e infondegli coraggio riguardo a ciò che l'attende. Fanno da cornici alcune presenze anonime, un medico e qualche donna che rimangono silenziosi. Le circostanze quindi sono identiche, qualcuno sta per abbandonare la vita terrena e ricorre a un discorso filosofico per confortare persone care e ad allontanare ogni dubbio sulla futura felicità. La paura che l'anima non viva in eterno ma finisca con la dissoluzione del corpo, ti sconvolge e confonde forse la mente? Domanda in apertura la sorella e il fratello. E quest'ultimo ammette che le parole divine che ci costringono a credere nell'eternità dell'anima assomigliano dei comandamenti, ma nessun argomento razionale è in grado di condurci a tale credenza. La nostra mente sembra accogliere questo comandamento in modo servile, dietro la spinta della paura, ma non dà un assenso spontaneo alle sue parole. Macrina allora inizia la sua dissertazione. Dimostra che l'anima umana è immateriale, invisibile, in tutto simile al principio che regge il creato. Ciò che la nostra anima è per il nostro corpo, il divino lo è per l'universo. Noi siamo un microcosmo che riproduce in ogni suo elemento l'armonia del cosmo. Finché siamo in vita il corpo imprigiona l'anima e l'austacola nella sua inclinazione a levarsi nella comprensione di Dio, al quale assomiglia ed al quale è attratta. Quando moriamo il nostro fisico si dissolve e i singoli elementi si ricongiungono agli elementi affini che sono in natura, ma la nostra anima rimane legata ad essi, per quanto possano allontanarsi gli uni dagli altri, espandendosi in un universo. Infatti, non conosce limiti spaziali e temporali, dato che è immateriale. Le anime di coloro che durante la vita sono stati troppo attaccati alla carne, invece, restano nei dintorni delle tombe come fantasmi infelici ed inquieti. Questo fenomeno di prigionia non è tanto una punizione che Dio assegni per rendere male al male, ma un processo di educazione che consente ai peccatori di emendarsi e riavvicinarsi al bene infinito. Le pene, per quanto prolungate possano essere, non dureranno sino alla fine dei tempi, ma tutte le anime, completamente purificate, impareranno a gioire nella contemplazione di Dio. Questa visione del cosmo e dei suoi destini è tanto permeata di ottimismo che perfino l'idea del male risulta piena di speranza. Così come Macrina lo concepisce, il male non possiede alcuna realtà perché la creazione divina è composta unicamente di bene. Il male è soltanto rimanere privati di Dio e lontani dal suo amore. Con il tempo, nel giorno del giudizio, tutte le anime raduneranno di nuovo gli elementi del corpo e lo riformeranno così come ora. La nostra anima attirerà a sé gli elementi del nostro corpo e noi torneremo ad essere quelli che siamo. Il mistero della risurrezione pone a questo punto un ulteriore interrogativo. Quale corpo ci verrà restituito alla fine dei tempi? Quello del momento in cui moriamo, decrepito, logorato dalla vecchiaia, sfinito dalla malattia, deturpato da ferite, mutilato e pesto se saremo morti in un terremoto? Incompiuto e infantile se saremo morti in fasce? Cogliarti gli organi smangiati dalla cancrena o rosi dalla lebra o colpiti da qualche altro morbo? La risposta della Vergine è senza incertezze. Ci saranno restituiti tutti gli elementi da cui siamo composti, ma il nostro corpo non sarà esattamente lo stesso, perché chi si risveglia sarà una persona diversa dal morto. Sarà anche nel fisico quell'uomo integro che fu Adamo appena uscito dalla mano creatrice di Dio. Occorre pensare innanzitutto al fine della dottrina della risurrezione e alla ragione per cui è stata formulata dalla Sacra Scrittura e si crede in essa. Per descriverla sommariamente con una definizione diremmo allora che la risurrezione consiste nel ritorno alla condizione originaria della nostra natura. Nella vita originaria creata da Dio stesso non esistevano come naturale né la vecchiaia né la fanciullezza né le sofferenze collegate con le varie malattie né altre debolezze proprie della miseria corporea. Che sia stato Dio a creare queste cose è del tutto inverosimile. Al contrario la natura umana prima di diventare preda degli impulsi più bassi era qualcosa di divino. Tutte le miserie sopra descritte fecero eruzione in noi allorché accogliamo il vizio. La vita privata priva di vizio non sarà più quindi obbligata a trovarsi in ciò che è stato prodotto proprio da esso. Come chi indossa un mantello lacero e poi si spoglia di quest'ultimo involucro non vede più addosso a sé la bruttura propria dell'abito che ha lato via? Così anche noi quando ci toglieremo il mantello inerte e brutto che ci venne gettato addosso e che era fatto con pelli di animali irrazionali ci libereremo contemporaneamente anche di ciò che è proprio degli animali irrazionali e che avevamo addosso. Ciò che abbiamo ricevuto dalla pelle degli animali irrazionali è rappresentato dagli accoppiamenti, dei concepimenti, dai parti, dalla sporcizia, dall'allattamento, dal nutrimento, dall'eliminazione, dagli escrimenti, dalla crescita graduale, dalla giovinezza, dalla vecchiaia, dalle malattie e dalla morte. Scrollandosi di dosso il più possibile questi inconvenienti, l'accoppiamento, il concepimento, il parto e tutti gli interessi materiali e psicologici che ne derivano, nonché i piaceri del cibo, del vino e delle altre soddisfazioni fisiche, la Vergine tende ad assimilarsi già ora sulla terra a quelle creature etere e pure che godranno alla fine lo splendore di Dio. E lei l'antesignana del compimento all'interno di una visione del cosmo profondamente gioiosa, piena di bene e di bellezza, dove il male non è che oscuramento del bene e dove la resa dei conti ogni creatura si salverà. La leggenda di Tecla è nata da due secoli, ma solo nella letteratura dedicata alla sua emula Macrina, che ne porta in segreto il nome come una seconda identità, penetriamo il mistero dell'estasi che l'accoglie alle parole di Paolo. Paolo ha fatto intravedere a Tecla la possibilità di salire ad un'altezza spirituale ed intellettuale mai raggiunta da nessun'altra prima e di toccare la vetta della comprensione universale. Tale è il privilegio che Gregorio riconosce a Macrina, ed è per questo che la bersaglia con interrogativi incalzanti e ossessionato dal tempo che passa, convinto che dopo nessuno sarà altrettanto convincente nel rassicurarlo. È stato osservato che in realtà la Macrina del dialogo sulla resurrezione è Gregorio Nissenu, che parla attraverso di lei, ma questo autore, scisso in due, che interroga e risponde significativamente, assegna alla figura del sapiente un'identità femminile. È donna, nella sua metafora, quella parte di sé che crede davvero in Dio e che conosce i misteri dell'esistenza. In realtà, fratello e sorella, uomo e donna, sconfinano uno nell'altro nel dialogo sulla morte. Lo fanno con le parole della scienza, nelle belle forme letterali della loro formazione greca, con l'ausilio del pensiero antico, eppure distruggono un luogo comune che nel pensiero antico era scontato, vale a dire l'esclusione della donna dai grandi interrogativi che riguardano i destini dell'umanità. Anche i greci credevano nell'immortalità della donna, dell'anima, ma adesso, in epoca cristiana, si tratta di credere per di più che il corpo sarà glorificato. Ad argomentare tale fede è una vergine consacrata a Dio, che del proprio corpo ha fatto il dominio dello spirito, mentre il fratello teologo è il discepolo che apprende. Nell'età antica era Socrate il filosofo per eccellenza e metteva fuori dalla porta la moglie prima di iniziare a filosofare. Ora, le fila del suo discorso vengono riprese alla luce dei Vangeli, ma al posto di Socrate c'è una donna.